ciao a tutti sono vincenzo mangiacapre e sono atleta della nazionale di radio di lato anche restando a casa io resto in forma con la box e non c'è un motivo migliore per restare in forma restando a casa io sono qui oggi con voi e volevo volevo condividere un allenamento un allenamento di tecnica lavoreremo soprattutto sugli incroci e sugli spostamenti adesso faremo 10 minuti di riscaldamento generale iniziamo con la mobilità mobilità della caviglia cambio lato cambio gamba cambio cambio le ginocchia cambio lato cambio il bacino braccia il mio braccio sinistro braccio destro cambio tutti e due dietro cambio cambio salteviamo e muoviamo le braccia fuori fuori cambio entrambi uno due due incrociano cambio braccio adesso in avanti indietro cambia braccio cambio dietro alterniamo sinistro, destro dietro entrambi in avanti uno, due cambio indietro laterale destra e sinistro doppio cambio cambio colpi destra e sinistra su montagna uno le ganci cambio tronco doppio mezzo ciro indietro mezzo avanti completo cambio lato uno e uno una destra una sinistra cambio avanti indietro rimaniamo indietro cambio cambio il bacino rotiamo il bacino cambio lato alciada 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 puri ginocchia 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 alta alciada alciada in fuori stop aspettiamo due piano uno forte adesso facciamo un minuto di corda alterniamo un minuto di corda e 30 secondi di addominale che però avanti Grazie a tutti. Grazie a tutti. 5 secondi. Cambio. Ti vediamo in giro. Ecco. 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 siamo sicuri che la stiamo facendo bene. Ecco. 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 facciamo di mantenere la distanza, di non cadere in avanti, ma di andare laterale. una cittadina, mini perchè non cadere in avanti. sopra e usciamo riposiamo seconda azione sempre immaginiamo il sinistro del nostro avversario destro sotto gancio sopra e gioco il resto del minimale siamo lì, prendiamo la distanza destro sotto gancio e destro ovviamente dobbiamo toglierci dalla territoria incrociamo, usciamo e ce ne andiamo sulla nostra sinistra a 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 la prossima la la prossima incrociamo sempre immaginando il sinistro incrociamo montando il sinistro sotto la figura destro dritto forte e gancio verso la nostra destra sempre ruotando sulla nostra destra sono lì mantengo la distanza aspetto il sinistro incrocio destro forte e gancio a 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 testa proviamo insieme la prossima immaginiamo il destro dell'avversario sul destro dell'avversario incrocio sopra metto un montante subito sotto montante esco con il gancio con la stessa mano stuzzico incrocio ecco io ritorno davanti al sacco perché lì dopo non ce la faccio a lavorare ma voi dovete continuare a girare e a rimanere fuori dalla dall'avversario papà 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 ecc papà 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 mamma guardia ad ecco picco un vento un vento un vento Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il destro dritto, uscendo sempre sulla nostra sinistra. Ne proviamo una volta sul diretto destro e una volta con il montaggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cambio guardia. Cambio guardia. Se stiamo bene sull'asse e partiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ultima. Grazie a tutti. 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 sinistro non usciamo indietro a destra ma è leggermente in avanti usciamo testo forte andiamo avanti indietro per metterci bene sulle gambe usciamo cambia guardia facciamo a sinistra, sinistro, sinistro e sinistro grazie a tutti ultima stop facciamo ultime due azioni adesso immaginiamo il destro del nostro avversario più da vicino questa azione siamo lì con le mani alte aspettiamo il destro flesso torsione in avanti destro sinistra montante sinistro lancio e lancio destro forte almeno facciamo un po' di nuovo facciamo un po' di nuovo facciamo un po' di nuovo ultimo cambia guardia andiamo sulla nostra destra montante dancio e dancio sussidiamo sussidiamo ultima ultima azione lavoriamo da vicino corpo a corpo siamo vicini mani alte montante sinistro sotto montante interno e gancio l'ultimo gancio lo dito spostandomi verso destra uno due tre e avvicino piano piano mani alte mentre avvicino pot 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 ultima abbiamo guardia stessa cosa ci avviciniamo a viso 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 ultima stop togliamo i guantoni facciamo gli ultimi 5 minuti di scioltezza una ripresa di corta un voto e abbiamo finito vai, partiamo con la volta un'altra ripresa di corta un'altra ripresa di corta una ripresa di corta un'altra ripresa di corta un'altra ripresa di corta ultimi 30 secondi ultimi 30 secondi stop riposiamo un minuto facciamo l'ultima di voto e ben finito pronti? facciamo l'ultima di voto quando facciamo il voto proviamo lezioni che abbiamo provato a sacco riposiamo un minuto Guarda! 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 baca ultimo minuto boh 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 buh baca buh boh boh buh 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 10 secondi stop ragazzi abbiamo finito spero che l'allenamento sia stato di vostro gradimento mi raccomando seguiteci sui nostri contatti sui nostri canali instagram della federazione pugilistica italiana e sul mio account privato di instagram vi mando un grosso abbraccio e mi raccomando rispettiamo le regole distanti ma uniti ci alleniamo insieme e restiamo restiamo in forma un abbraccio vincenzo mangiagal grazie a tutti Grazie a tutti.